Qual è la squadra di Gagliarella? È un semplice passaggio, però felice per lui e per la squadra che ha fatto una grande gara. Abbiamo riposato mentalmente anche con tante partite alla fine del primo giro, ci ha messo un po' in difficoltà. Poi sappiamo cosa dobbiamo fare per fare la gara importante, per divertirvi, è quello che dobbiamo fare anche mercoledì. Per lottare un posto in Europa dobbiamo essere consapevoli di guardare partita dopo partita, fare la partita, fare la gara, fare un bel calcio che è quello che lavoriamo per fare. Perché quando lo facciamo si vede.